La nuova casa dell'anziano di Baveno presso il parco di Villa Mus in zona oltre fiume potrebbe prendere forma a breve. Intanto l'amministrazione comunale ha ricevuto un'offerta nelle scorse settimane e sta valutando la proposta del privato. L'idea è già stata vagliata all'interno delle commissioni consigliari competenti, ora si stanno facendo considerazioni legate ai contenuti tecnici e finanziari del progetto. Costruire una struttura ex nuovo in un terreno come quello di Villa Mus si richiede analisi approfondite perché non si può sottovalutare alcun aspetto afferma il sindaco Maria Rosa Gnocchi. È nostra intenzione creare una nuova residenza sanitaria assistenziale. L'attuale nostra casa dell'anziano non è una RSA ed è destinata solamente a persone autosufficienti. Ad oltre fiume invece troverebbe posto una vera e propria RSA con circa 60 posti letto che andrebbero ad aggiungersi alla vecchia struttura di via Passerella munita a sua volta di massimo 37 posti letto. Non vogliamo abbandonare il vecchio immobile perché saprebbe offrire un servizio alternativo e di completamento della nuova RSA, precisa Gnocchi. L'offerta ricevuta ad oggi è la più allettante mai pervenuta. Dobbiamo solo comprendere se il progetto si adatta totalmente alle nostre precise richieste. Per la nuova casa dell'anziano nel giardino di Villa Mussi si calcola una spesa di circa 6 milioni 100 mila euro a posto letto. L'operazione verrebbe condotta dal comune attraverso un project financing che prevedrebbe la concessione del terreno da parte del comune al privato con lo stesso che si sobarcherebbe i costi per la realizzazione dell'opera.